ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella terza parte del primo box retail ne abbiamo oltre i tre che vedete sullo sfondo ad aprire poi anche un altro vediamo capiamo 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 scorti e che cazzo sempre akhan charanoglu qui tutte base visto il capitano è dietro secondo pacchetto che questi non hanno intenzione di prendersi probabilmente d'altra parte pure class che non è one of one no sarebbe stata bella one of one di nicolino barella ma ci dobbiamo condentare della base pazienza terzo pacchettino poi c'è chesni ad aprire il pacco ho trucchi ho trucchi prati vai niente forte l'ultimo pacchettino di questo video bene vuol dire che c'è dentro la one of one libro non è per niente è alessandro bastoni e via